Bentornati su Altmate, sono Fabri e oggi in questo nuovo episodio voglio parlare di un fatto molto importante che sta avvenendo in questi giorni, se non proprio oggi, riguardante la scena politica degli stati in Europa. Parleremo infatti della Germania e di come questa, a quanto pare, voglia, tra virgolette, uscire, abbandonare l'Europa. Normalmente vado a cercare notizie e informazioni sul web, comunque fatto sta che ho trovato alcuni pareri anche di autorità, diciamo, abbastanza autorevoli, di economisti, di persone del settore. Non faccio mai video di politica, però questa notizia veramente mi ha destabilizzato. Allora, a quanto pare, ci sono due motivazioni. D'altro mi sono andato a vedere anche tutte le conferenze che ha fatto il presidente americano Trump. La prima, a quanto pare, è una motivazione a livello economico. La Corte Costituzionale tedesca, come ben sapete, tramite un processo che si è tenuto qualche giorno fa, ha dichiarato, tra virgolette, illegittime o comunque in attesa di indagine, le operazioni finanziarie che ha fatto la BCE per rilasciare questo famoso bazooka di aiuti per comprare i titoli di Stato dei paesi un pochettino più in difficoltà e, secondo la Corte tedesca, questa mossa che ha fatto la BCE è illegittima. Una situazione che potrebbe sfavorire la Germania, in quanto si darebbero dei fondi, dei sussidi a questi paesi, tipo l'Italia, la Spagna, insomma, questi paesi un pochettino più colpiti dalla crisi, e a svantaggio dell'economia tedesca. Potrebbero derivare questi aiuti dalla BCE ai paesi europei e quindi per questa ragione vorrebbe abbandonare. Quindi il riassunto della prima motivazione. Ma ce n'è anche un'altra, come appunto vi dicevo prima. La seconda motivazione è quella che un pochettino lascia più così perplessi, e cioè quella che i paesi che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale, quindi gli alleati, tipo per esempio gli Stati Uniti, la Russia e l'Inghilterra, in occasione del 75esimo anniversario della liberazione dal nazismo, si stanno riunendo a Mosca per decidere le sorti della Germania. In che senso? Quando c'è stata la liberazione dell'Europa da parte degli alleati, in realtà non hanno stipulato un vero e proprio trattato di pace con la Germania, ma c'è stato diciamo una sorta di accordo per la quale la Germania ha beneficiato, anche come sappiamo tutti, dell'azzeramento di tutti i debiti di guerra, eccetera, eccetera, ma in realtà non ha beneficiato di un vero e proprio trattato di pace. Quindi, secondo queste fonti, si stanno venendo a Mosca per chiudere, per concludere questo trattato di pace, ma è relativo perché a quanto pare, in realtà, questo trattato di pace farebbe sì, farebbe in modo da azzerare completamente il governo tedesco, nel senso che la Germania attualmente è una Repubblica federale tedesca. Con questa situazione qua non esisterà più, perché questa Repubblica federale tedesca in realtà è solamente un costrutto fatto dagli alleati e quindi la Germania tornerebbe ad essere il Deutschreich, quindi quello che era praticamente del 1918. E quindi il discorso qual è? A livello economico tutta questa situazione andrà sostanzialmente a ripercuotersi con le economie dei paesi europei, con le economie dei paesi europei, come per esempio l'Italia, la Spagna, quelli che comunque ancora sono legati a quest'Europa, a questa barca che sta chiaramente affondando. Ci sono delle dimostrazioni in Germania, non so se andate anche su YouTube, vedrete che ci sono moltissime manifestazioni nelle piazze tedesche, sicuramente anche per i decreti che ci sono stati a causa del Covid, dell'emergenza, i decreti che hanno messo anche in Germania, restrizione eccetera. Ma a quanto pare alcune proteste sono anche relative a questa situazione che i tedeschi già sanno poter delinearsi come scenario plausibile e quindi come dire, se mettete i pezzi insieme, quindi il puzzle viene fuori, effettivamente è un'immagine che potrebbe essere realistica sotto questo punto di vista di quello che poi sarà lo scenario politico. Ora io non sono, ripeto, un economista, quindi non so cosa potrebbe succedere se la Germania si tira fuori dall'Europa, non so se è un bene o un male, perché tutto sommato in Sicilia si dice che più scuro di mezzanotte non può fare, cioè più scuro di mezzanotte non può fare, attualmente siamo in dittatura, quindi mettiamo caso che dovesse capitare che in Germania salta il governo, magari ci vanno gli americani a dettare leggi e a fare un governo provvisorio, questa cosa si potrebbe ripercuotere anche come riflesso sull'Italia e quindi potrebbe anche saltare il governo italiano in questo caso oppure saltare l'economia, oppure si potrebbe fare una moneta alternativa all'euro e quindi tornare alla lira e quindi trarne, penso, un beneficio. Ora, ripeto, ho fatto questo video per avere anche un vostro parere, cercate su internet perché queste sono fonti che stanno trapelando sul web, quindi potete anche voi informarvi su questa cosa. Quindi cosa ne pensate? Apriamo un dibattito politico, abbiamo un dibattito civile, democratico su questa cosa e lasciate i vostri commenti in descrizione. Bene ragazzi, io adesso vi saluto, mi raccomando iscrivetevi al canale per aiutarci a crescere, attivate la campanellina per non perdere le ultime uscite video. Un saluto da Fabri.